Ridurre i conflitti e rendere accettabili le limitazioni all'accesso e all'utilizzazione turistica di delicati siti naturali italiani e francesi, mobilitando i giovani per far comprendere il valore di due aree pilota e delle specie animali che le abitano, nel caso specifico la salamandra di lanza e la trotafario mediterranea. E' questo lo scopo del progetto europeo Alcotra Italia-Francia la GECO, gestion écologique des conflits, di cui è capofila la cooperativa francese Oxalice e di cui la città metropolitana di Torino è partner. Alle giovani generazioni che hanno tenuto il primo incontro a Torrepellice è assegnato un ruolo di sentinelle e di custodia a lungo termine della biodiversità. Le aree pilota scelte per il progetto di studio e sensibilizzazione dell'opinione pubblica sono la riserva della biosfera transfortaliera del Monviso, la conca del Pra in Valpellice e la regione geografica francese del Cheirà, che confina con le vallate alpine italiane ai piedi del re di Pietra. Le specie di cui si vuole promuovere la tutela sono appunto la salamandra di lanza e la trotafario mediterranea, presente quest'ultima nelle riserve di pesca in Alta Valle di Susa, in Val Chisoni, in Valpellice, nell'Alta Valle Po e nel Cheirà. L'obiettivo è di favorire la nascita di comunità di giovani custodi della biodiversità. Il progetto coinvolge circa 120 fra studentesse, studenti e insegnanti della scuola media del Collegio de Ghiestre, dell'Issè d'Altitude di Brianson, del Liceo Valdese di Torrepellice e degli istituti di istruzione superiore Luigi Der Zambrua di Ulx, Carlo Denina e Soleri Bertone di Saluzzo. Disporre, diciamo così, di giovani che sono più ambientalmente sensibili, quanto può aiutare il vostro lavoro di tutela di queste specie così a rischio? E questo è fondamentale perché i giovani al giorno d'oggio spesso intendono la biodiversità, intendono il valore della natura attraverso quello che vedono sui monitor, sui video, per cui la biodiversità è l'Amazzonia, è la barriera corallina, mentre noi abbiamo un patrimonio nei nostri fiumi incredibile, c'è una ricchezza di specie veramente notevole, di cui più della metà dei nostri pesci sono endemici, cosa vuol dire? Che sono tipici delle nostre acque. Questo i nostri ragazzi non lo sanno e spesso quando li porti sul fiume restano meravigliati dalla diversità di forme, colori e, diciamo, dalla diversità della vita che c'è ancora nei nostri fiumi. Aree protette del Moviso coinvolte in questo progetto perché poi questi giovani, questi studenti sono il futuro, sono i futuri frequentatori o già attuali dell'area protetta. Certamente perché la salamandra di Lanza è una delle specie target di questo progetto e sicuramente le future generazioni sono quelle interessate nella gestione dei conflitti che si creano naturalmente nel cercare di tutelare queste specie, sia in termini di fruizione turistica che di utilizzo del territorio. Voi vi aspettate insomma che questi giovani, conoscendo sempre meglio queste valenze ambientali, la valenza ambientale di queste specie, siano poi quelli che vanno a convincere gli adulti che sono meno sensibili? Sicuramente, sicuramente, la speranza è un po' quella e poi comunque saranno coloro che avranno la palla in mano nel giro di qualche anno e quindi è importante sensibilizzarli.